Presentato al Salone del Libro il catalogo dei pittori per la pace di Torre Canavese. Una raccolta di centinaia di opere d'arte realizzate da pittori di tutto il mondo che da anni richiamano a Torre Canavese migliaia di visitatori. Un museo a cielo aperto sempre disponibile, realizzato grazie alla collaborazione tra l'antiquario Marco Datrino e il comune di Torre Canavese. I pittori per la pace sono queste che oggi si presentano qui a questo salone e oggi il comune ha ben 550 opere che tra quelle che sono in pinacoteca e quelle esposte fuori che sono icone, che raccontano la storia dei popoli, dei pittori e dei popoli che sono venuti a dipingere a Torre e così oggi presentiamo questo volume e orgogliosamente possiamo dire che 550 opere e 600 abitanti sono quasi un'opera per ogni abitante e costituisce un record credo quasi ineguagliabile perché è difficile trovare un altro comune che abbia tante opere d'arte quanti ci sono a Torre Canavese. Grazie a tutti.